L'embo dell'Atletic, tornata al gol dopo tanto tempo, un gol importante soprattutto perché ha pareggiato i conti nella partita col Molassane. Sì, finalmente, erano tre anni che non segnavo, è andata bene così. C'è un po' di rammarico perché abbiamo creato tanto, abbiamo creato tanto ed era uno scontro diretto e i tre punti avrebbero fatto comodo. Siamo arrivati tante volte davanti alla porta e ci siamo mangiati qualcosina, però passo dopo passo c'è stato un netto miglioramento rispetto alle prime partite. Si può dire che nel secondo tempo abbiate un attimo cambiato passo? Nello spogliatoio c'era un po' di scontento e come si dice abbiamo tirato fuori gli attributi e abbiamo cambiato passo. Sì, ce n'era proprio bisogno. Grazie. Ah, un'ultima cosa. A chi la dedichi dopo tanto tempo? La dedico a mio padre che mi segue sempre. Quando ho segnato sono andato sotto di lui. Proprio un'emozione. Speriamo che ti abbia fatto qualche bella foto. Speriamo. Grazie John.